Buongiorno a tutti, allora abbiamo il gelatone, andiamo a far vedere dalle prospettive perché mi hanno messo il doppio biscotto anche stavolta, perché gli ho detto esagerate. Praticamente stracciaterra, pistacchio perché ce l'avevano il pistacchio stavolta, come dice Teresilla Abba Spencer, ce l'avevano il pistacchio? No, non c'era il pistacchio e invece c'era, quindi stracciatella pistacchio, panna montata con cioccolato sopra, doppio biscotto da libidine e quindi ragazzoli ve lo faccio vedere anche dall'alto, dall'altra parte, così vi rendete conto, lo spettacolaus del gelataus, del ciringaus, che sarebbe il ciringhito. Detto questo adesso me lo pappo, probabilmente me ne papperò anche un altro perché bisogna sfruttare le ultime giornate perché ormai tra un mese e mezzo loro chiudono e io non posso neanche fare il merendone come vorrei da metà ottobre perché temo che quando finisco di lavorare finiscono anche loro. Detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao!